Chi voleva occuparsi di problemi della gente facendo un papocchio di questa natura, e qui mi riferisco a Donati, ha creato la tempesta perfetta perché tutto si parla fuorché di problemi della gente e di una provincia che già è sparita dai radar per le sue competenze, anche per i suoi compiti, e poi manca di una guida politica che in tutto questo periodo non ha ben capito da quale parte deve stare. Il sindaco di Castiglione Fiorentino Mario Agnelli, da poco tempo anche nel direttivo regionale della Lega, entra a gamba tesa nel dibattito che in queste settimane c'è attorno alla guida della provincia di Arezzo. Il consiglio provinciale rinviato è l'ultima notizia in ordine di tempo, ma Agnelli annuncia di aver dovuto inviare al segretario dell'ente una segnalazione arrivata dai banchi consigliari del suo comune. Ho dovuto riportare quella che è stata un'interrogazione del consiglio comunale di Castiglione Fiorentino al segretario della provincia chiedendo l'UMI su presunte irregolarità al momento dell'elezione del sindaco di Anghiari. Parlo di presunte perché non posso sapere se queste irregolarità sono reali o sono fantomatiche. Tuttavia rientro in un contesto in cui l'anomalia di queste elezioni di secondo grado ha visto un candidato, come tutti sanno, di centrodestra appoggiato dal centrosinistra, e un altro candidato che era la presidente Chiassai, sindaco di Montevarchi, presidente uscente della provincia, appoggiato dai partiti del centrodestra e dai eletti delle liste civiche. Per quanto mi riguarda, ma parlo anche al plurale per i consiglieri comunali di Castiglione Fiorentino, per quanto ci riguarda le elezioni sono andate a pannaggio di Polcri, per cui per me Polcri resta il candidato della lista del donati, patto, come si chiama, partito democratico, eccetera, eccetera. Se verranno fugate, spazzate via queste presunte irregolarità, tanto meglio, se non ci sono risposte dovremo cercare di averne in tutti i modi, rivolgendoci anche a un livello diverso, a un livello superiore rispetto al segretario della provincia. Ma sotto un profilo invece meramente politico, una elezione di questo tipo con mal di pancia di qua e di là, riesce poi a governare un presidente, un amministratore? Certo, io non ho alcun mal di pancia, evidentemente invece il sindaco di Anghiari sa convivere con questo tipo di situazioni, al posto suo mi sarei già dimesso, però ognuno fa quello che ritiene più opportuno. Oggi credo che la provincia non è in grado di dare risposta a nessuno, né nel centro-destra né nel centro-sinistra, e non sto parlando solo degli eletti ma anche dei cittadini.